Questo cane è enorme, Luca è un cagnolino, traina fino a quattro slitte da solo. Ecco un incontro in pedana, una piccola discussione con gli altri cani. Dovrebbe sedersi, speriamo, prima di mezzogiorno e mezza. Bravo, ecco che si è seduto, è un cane che se prende una bistecca la mangia. Sa fare qualcosa con il tuo cagnolino? No? Vizi! Questo tipo di cani è molto obiettivo, non riceve mai biscotti per fare quello che deve fare. No, può farlo sedere bene, lì davanti alla gente, farlo sedere bene. Poi spingelo giù, se siete spingelo giù, bravo! Vieni ancora qui davanti alla giurina, no? Vieni ancora qui! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.